Io vengo da una regione dove siamo ben oltre il 90% dei vaccinati, abbiamo quasi 700.000 dosi sulla terza dose, quindi io continuo a pensare che la persuasione sia la strada maestra anche perché nei Novax c'è di tutto, c'è chi è contro ideologicamente, c'è chi ha paura, c'è chi è ignorante e quindi continuo a credere nella persuasione e nelle scelte corrette fatte fino ad ora dal governo Draghi di far capire che chi non si vaccina è innanzitutto un privilegiato che si può permettere il lusso di non vaccinarsi grazie al fatto che lo hanno fatto gli altri e quindi chi lo ha fatto può andare al cinema, può andare al ristorante, può andare al teatro, può andare dove vuole e invece chi non lo ha fatto è giusto che sia da un'altra parte, quindi io continuo a pensare che la via della persuasione sia la via più corretta, anche perché devo dire l'obbligo vaccinale anche nei piccoli numeri non è di semplice attuazione una volta definita la regola, ad esempio fare un green pass rafforzato che nega la possibilità di frequentare luoghi pubblici di fatto è una forma molto dura ma che io condivido al mille per mille di indirizzo verso il vaccino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!